Ora, il vendere e l'avere un'azienda che venda a prezzi bassi e che vada quindi, adesso parleremo di questa cosa, a monetizzare o tentare di monetizzare un mercato di spilorci, questo è, ok? È una scelta. Cioè, alla base del ho un'azienda che ha prodotti costosi e tutto lo sforzo di marketing che faccio è nel venderli, vedremo per esempio che non è più difficile perché nessuno prova a vendere ai ricchi, ma questo è uno di quei segreti di pulcinella che però è vero, sono tutti lì che si monetizzano tra persone che hanno pochi soldi, vedremo adesso quali sono le criticità, quindi è una scelta.